ciao a tutti questa è la mia proposta di trucco di natale per me natale è oro e rosso questi sono i colori anche se io non amo particolarmente il natale però insomma quando si tratta di truccarsi ogni occasione buona per farlo quindi anche questa è un'occasione giusta e quindi vi faccio vedere la mia proposta e spero vi piaccia e qui avevo già fatto la base e quindi parto direttamente con il trucco occhi avevo già fatto la base le sopracciglia in realtà avevo già messo anche un po di mascara e quindi niente parto direttamente con il trucco occhi e vi faccio vedere diciamo tre varianti per quanto riguarda la bocca quindi guardatelo fino alla fine io spero vi piaccia e soprattutto che vi tenga compagnia ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti